la chiosa dal mio punto di vista è sempre olimpiade stupendo del settebello rovinata da un errore palese chiusa con una protesta civilissima come al solito esasperata da chi non sa cosa vuol dire sudare per arrivare a un obiettivo è una buona chiosa? vuoi aggiungere qualcosa mister per chiudere? poi andiamo sul calcio no no è perfetta come come chiosa devo dire che questo pensiero ce l'hanno il 90% degli italiani e non solo degli italiani e questo ci fa enormemente piacere perché la delusione è stata molto forte il dolore è stato molto forte perché non è una sconfitta soltanto perché saremmo stati mali ugualmente ad uscire ai quarti di finale in quella maniera è stata molto più difficile da digerire poi un po' di polemiche tra la parte istituzionale e la parte emotiva del paese ci sta tutto perché comunque è chiaro che qualche regola l'abbiamo violata nella seppur civile emotiva e pacata protesta però ha avuto un grande impatto ci sono in corso dei provvedimenti che tu sai perché te ne ho parlato privatamente quindi non mi sento di aggiungere altro perché aspettiamo che ci sia il decorso finito dal punto di vista appunto disciplinare per poi eventualmente esprimere dei giudizi definitivi molto 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 chiaro i ragazzi l'hanno fatto una protesta molto civile poi voi l'avete sentito spesso parlare qua mister Campagna è proprio uno che non ragiona sul discorso arbitrale generalmente là c'è stato un dispiacere perché non c'è stata proprio una certa uniformità cioè nell'insieme i giocatori si sono sentiti non vedere rispettato fino in fondo il proprio grande impegno a Rosette Bello splendido e poi ce l'ha sempre detto anche qua il mister con l'Ungheria Croazia Serbia dico un po' di nomi così si può vincere e perdere di un gol anche giocando a in parità numera così è chiaro si fa uno sforzo incredibilmente superiore l'Italia aveva poi ribaltato addirittura la partita con l'uomo in meno però alla fine lo si paga si è perso ai rigori ma credo che il mister debba concludere questi procedimenti poi ne parleremo ancora meglio però ecco ribadisco che il mister non l'ho mai sentito qua lamentarsi perché aveva perso che ne so ai rigori non hanno detto la sfortuna perché ha perso con una decisione arbitrale non l'ho mai sentito se parliamo di Juve non si lamenta mai quindi evidentemente c'è stata una percezione poco non lo so poco gradita dai giocatori e dall'ambiente quindi credo che sia legittimo fare questo poi si sono giocato l'unica considerazione che posso fare è che io accetto qualsiasi errore sul campo un rigore dato non dato qualche espulsione data non data un fuorigioco dato non dato adesso nel caso della Palondo c'è i due metri ci sono non ci sono non c'è la tecnologia che aiuta in questo caso però quando si fa un errore al bar che lo vai a vedere per dieci minuti una cosa inesistente e stravolgi completamente la dinamica di un gesto spettacolare che tra l'altro è finito con un gol allora ti vengono molti dubbi che non puoi provare ma ti vengono allora io farei tutto molto chiaro ragazzi l'amarezza è questa hanno visto ricordati chi l'ha visto è un tiro del giocatore italiano che poi inevitabilmente dopo aver tirato finisce con la mano sul viso o comunque sul corpo dell'avversario e aver ritenuto fallo e allora non si può più tirare perché purtroppo l'essere umano una volta che tira non riesce a fermare il braccio nel momento così ma lo porta un po' avanti quindi sarebbe è stato un po' molto strana come decisione molto molto strana peccato davvero era in forma strepitosa però dobbiamo passare avanti mister a noi servicarico per il settebello e per parlare di Juve io partirei da una cosa siccome partiamo da Juve PSV e poi voglio voglio tutte le analisi del mister su questo nuovo corso voglio su Giorgio Ghiellini perché se non ricordo male il mister qualche bel discorso ce l'aveva fatto molto vicino a questa nomina ce lo dirà tra poco Federico ce lo racconti un po' il PSV anche vista la Juve delle ultime partite di queste prime partite scusa le prime due molto brillanti con degli spazi in più direi le ultime due con squadre dense in mezzo abbiamo faticato un po' no? poi ovviamente voglio il mister ma Fede che PSV che sta vincendo ogni partita 4-5-0 sì non è una novità perché anche l'anno scorso ha vinto praticamente tutte le partite del girone d'andata e poi ha vinto il campionato abbastanza in surplus nel girone di ritorno ma io ho visto la partita sabato la partita di campionato contro il NEC e insomma è difficile da giudicare lo stato di forma perché si è trovato già era già una partita di per sé sbilanciata nel pronostico poi dopo dieci minuti sei in vantaggio 1-0 e con un uomo in più perché c'è stata un'espulsione per un fallo da ultimo uomo e chiaramente diventa tutto in discesa hanno fatto il 2-0 al sedicesimo e da lì in poi ecco abbastanza strano strano insomma abbastanza inusuale ecco se vogliamo rispetto magari alle abitudini delle squadre olandesi che di solito vanno avanti ad attaccare tutto il tempo il giorno dopo c'è stata una partita che è finita 9-1 tanto per dire insomma quindi è abbastanza la mentalità è un po' quella il PSV ha dato invece abbastanza al risparmio energetico questo in realtà ha permesso di vedere una squadra in un contesto molto rilassato però è un 4-3-3 classico olandese con un grande possesso di palla e secondo me in difesa sono anche sono più attenti di quanto si creda hanno un centrale francese Boscaglì che ha anche dei piedi abbastanza buoni anche in fase di impostazione ha colpito una traversa l'altro giorno e secondo me l'elemento interessante da tenere d'occhio nella partita di domani è Gustil che parte da centrocampista di destra nel 4-3-3 dove c'è in mezzo c'è Scout e next Bologna però gioca un po' alla Combiners per capirci è un giocatore che si inserisce tantissimo è molto diciamo può fare o agire sotto punta o fare a tutti gli effetti la seconda punta al fianco di De Jong che invece è un po' il centravantone spalla la porta Boa che fa per restare in tema del mister Campagna che smista un po' le palle per per gli inserimenti degli esterni e in particolare appunto di Till che è un po' il giocatore che rompe gli schemi ha segnato il gol del 2-0 ieri e a me ha dato un po' la sensazione di essere l'elemento un po' imprevedibile che te lo trovi che sulla carta te lo trovi centrocampista di destra di fatto te lo trovi dovunque ti si inserisce alle spalle nel momento quando uno o meno se lo aspetta questo senza senza dipingere spauracchi più grandi di quelli che sono cioè se la Juventus una partita la partita in casa col PSV secondo me la deve vincere per determinate ambizioni ti chiedo questo così poi andiamo dal mister con Virginia Dario cominciamo a farvi domande più che altro qual è il punto debole secondo te e ti chiedo si apriranno quindi un po' di più sai quello che si aspettano tanti tiposi di Juventini di avere un po' più spazi magari anche rischiando di più dietro rispetto a queste partite sì oggi su tutto sport Hiding che parlava di una squadra naif condivido abbastanza la visione di Hiding che ne ha viste sicuramente più di me del del PSV recente però l'impressione che ha dato a me è quella è quella di una squadra che se messa sotto pressione ti ti offre ti può offrire parecchi spazi ecco poi chiaramente la partita di sabato non era un test pienamente attendibile già sotto questo punto di vista ma quella sensazione te la dà al contrario è una squadra che si individua il tuo punto debole e te lo te lo prende fino allo sfinimento ecco poi è una nel complesso però ripeto se la Juventus parte con l'idea di arrivare nelle prime otto del del maxigirone della classifica finale o perlomeno secondo me deve puntare a quello come primo obiettivo ed è un obiettivo che deve passare attraverso una vittoria in casa contro il PSV magari anche non non squillante conta secondo me conta mai come alla prima giornata in casa contro una squadra di seconda fascia conta conta portarsi a casa la vittoria allora grazie tanto per questo quadro cominciamo anche col mister con Federico e il mister ma cominciamo col mister io ti faccio la prima e poi tutti insieme anche Fede ovviamente si ha della curiosità per il mister o il contrario ovviamente siamo qua per dibattere caro mister che ci racconti di questo nuovo corso tu hai spesso spiegato le dinamiche quando c'era l'egri di difficoltà cosa mancava cosa non mancava e quindi passavi per l'egriano tu sai come funziona l'allegriano campagna perché ci racconta là dentro io devo dire l'ho sentito l'altro giorno mi ha detto praticamente io sono pazzo di Tiago Motta mi racconti se è così intanto mister e perché e cosa sta in cosa stiamo faticando cosa ti sta piacendo no no a me l'approccio che ha avuto in una grande squadra mi è piaciuto moltissimo mi piace molto l'empatia che sta creando anche con i giocatori lo vedo che mi dà coraggio in ogni momento della partita ci sono dei filmati che sono girati per esempio al rientro dei nazionali se li è andati a abbracciare uno per uno cioè c'è proprio un rapporto molto buono tra i giocatori e l'allenatore che sta dando delle nuove idee e è chiaro che ci vorrà un po' di tempo per assimilare anche perché la squadra insomma da adesso in poi la vedremo probabilmente insomma la stessa nei numeri nella formazione con le giuste rotazioni le prime due partite sono state ottime nel risultato grande entusiasmo i giovani che ti fanno dei gol che ti fanno gli assist poi sono entrati anche gli altri giocatori devo dire che mi sembra che un po' anche tutti i media l'hanno detto sia Coppanias che Nico Gonzalez non sono assolutamente in condizione fisica ma proprio lontane anni luce d'altronde se i giornali dicevano la verità che presentava il certificato medico per allenarsi con l'Atalanta avrà fatto tutt'al più qualche corsetta nel corte di casa insomma quindi si vede che sono un po' lenti un po' appesantiti un po' ingolfati il brasiliano Douglas Luiz ancora non ha espresso il potenziale che si dice ho sentito un editoriale di Guido Baciaco che insomma dall'interno della cantinasse abbiamo detto insomma che sembra un po' sbogliato durante gli allenamenti o quantomeno che non si applica al cento per cento e se così fosse o se ho capito male io non mi scuso però se così fosse ne tocca poca di palla Douglas Luiz perché credo che Tiago Motta fa dell'intensità dell'allenamento dell'applicazione dell'allenamento la prima condizione necessaria affinché tu possa giocare poi la domenica o nell'weekend quindi anche lui deve un po' cambiare passo anche l'abbiamo visto molto compassato a basso ritmo e probabilmente anche lui non al meglio della condizione però deve spingere di più in allenamento se vuole fare il salto di qualità con questo tipo di gioco Massimo posso andare con una domanda volevo chiedergli il parere su una cosa positiva cioè un aspetto che abbiamo visto essere molto positivo di queste prime quattro partite e parlo di Gatti giocatore che ha iniziato un campionato in cui praticamente ha sbagliato pochissimo se non addirittura niente e volevo chiederle se insomma si aspettasse questo inizio da parte sua e soprattutto quanto in questo possa avere inciso il fatto di avere la fascia da capitano al braccio moltissimo penso anche perché dalle formazioni iniziali Gatti non sembrava essere il titolare di questa squadra invece lo sta dimostrando di essere un grande leader un grande capitano se abbiamo un punto in più lo dobbiamo a lui perché ha fatto un salvataggio incredibile al centoquattresimo secondo al novantaquattresimo secondo scusate minuto e devo dire che non sta sbagliando niente anche come atteggiamento sia Luca che Bremer sono due punti di riferimento dell'intera squadra e non è un caso che abbiamo preso un zero goal anche per il sistema per il modo di difendere collettivamente ma loro due non hanno sbagliato un intervento fino adesso quindi Gatti bene ci sono delle cose positive molte cose positive io guardo il bicchiere più mezzo pieno che non mezzo vuoto e chiaramente probabilmente ecco rispetto al Bologna lui si troverà molte squadre chiuse perché siamo la Juventus e quindi probabilmente anche sul piano del gioco dovrà trovare altre soluzioni dovrà provarle ci dovrà sbattere contro ha le conoscenze calcistiche e soprattutto ha anche la capacità didattica di insegnamento da quanto mi sembra di capire anche che trasmette in maniera molto chiara i messaggi e i giocatori possono apprendere velocemente questa ho la sensazione quindi sono molto molto fiducioso 8 punti va bene in queste 4 partite e adesso ecco domani ecco una partita molto importante da giocare con grande entusiasmo e anche un po' di leggerezza perché se diamo pressione ai giovani possono anche bloccarsi perché il PSV come ha detto Federico è molto molto buona gioca bene a calcio anch'io qualche spezzone lupista gioca spensierata tipico da olandese per cui domani dobbiamo affrontarle a viso aperto Dario vuoi parlare anche tu dici qualcosa Federico il mister assolutamente ribadendo anche tutta la stima che ho per il mister è veramente un piacere grazie volevo chiedere le mister anche in base alla sua alla sua esperienza oggi Tecomotta ha parlato anche di Danilo ha specificato come essenzialmente lo ha messo al parere degli altri come è giusto che sia dicendo come il capitano della Juventus deve in qualche modo farsi trovare pronto per giocare le chiedo se per lei la gestione di Danilo in questo momento dà più forza a Tecomotta o può essere un eventuale rischio all'interno delle dinamiche di spogliatoio per quanto riguarda la gestione dare un parere dall'esterno è quasi impossibile se non capisci cosa sia successo se è successo qualche cosa come lo vede se è tornato dalla Coppa America scarico deluso poco allenato e quindi pretende di più dagli esterni bassi quindi lo vuole spronare a dare sempre di più e magari a trascinarsi anche Douglas Lewis cioè non sai mai che cosa che cosa all'interno di un gruppo di una squadra che dinamiche ci possono essere quindi non posso darti un giudizio però non guarda e faccia nessuno questo questo mi sembra evidente quindi il capitano della Juventus se non gli è piaciuto in qualche cosa glielo sto facendo capire e poi è anche può anche essere scontroso da un punto di vista umano in certi in certe cose può anche essere come Massimo Sat avevamo avuto qualche informazione che all'inizio si fa fatica a comprendersi e quindi ci sta anche questo periodo da persone intelligenti se si parlano e se hanno un obiettivo in comune quello che è il bene della Juventus sono convinto che Danilo potrà ritornare utile perché è un giocatore in gamba che tra l'altro può giocare sia da centrale sia da da esterno per cui la stagione è molto lunga non 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 so cosa sia successo quindi è veramente difficile capire però se tu mi dici se dimostra di avere forza dimostra di avere le palle questo sì e nei confronti degli altri dici caspita qua non possiamo sbagliare perché se no magari ci fa fuori a tutti Federico chiediamo anche a te di questa Juve di queste due partite e poi ovviamente se puoi dirci la tua dialogare col mister o quello che vuoi ci racconti un po' Fede cosa cosa stai vedendo il problema è questo è che se si chiudono centralmente pressando un po' non troviamo sbocchi e come dice il mister andrà trovata un'altra soluzione cosa accade alla Juve di Motta Fede si è mutato eccoci qua no devo dire che sono state due partite secondo me sono state due 0-0 un po' diversi l'uno dall'altro nel senso che con la Roma mi è parsa più una situazione di voler un po' contenere di un po' di accontentarsi la sensazione è stata un po' quella di accontentarsi di non anche tutto sommato legato anche alla pressione che aveva la Roma dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli e torniamo qui all'Empoli la partita contro l'Empoli di sabato a me è stupito in generale perché però non non è lungo da me trarre delle conclusioni definitive mi limito a quello che si è visto o meglio dire non si è visto in questi in quei 90 minuti è stata un po' un'involuzione generale proprio di quei giocatori dei quali ci si aspettava magari qualche guizzo in più io ad esempio da Yildiz mi aspettavo qualcosina in più in termini di verve in termini di vivacità di accensione proprio della partita lascio stare tutto il discorso legato legato a Vlaovic che ne abbiamo parlato talmente tanto ne parleremo ne parleremo tantissimo ed è una cosa talmente ciclica secondo me sarà per la natura stessa dell'attaccante che ce la porteremo dietro per tutta la per tutta la stagione però ecco sono in questo tipo di partite giocatori come Fagioli giocatori come Yildiz secondo me qualcosina in più mi sarei mi sarei aspettato e poi c'entra molto anche quello che diceva Sandro della condizione fisica alla base di tutto perché nei momenti in cui probabilmente anche lo stesso Douglas Lewis non è non è ancora non è ancora al pieno non è ancora al pieno dei giri del motore a maggior ragione i due che sono arrivati alla fine del mercato qui la sosta della nazionale per la nazionale con questi giocatori che sono rimasti perlomeno con con Miners che è rimasto poteva essere funzionale per rimetterlo per rimetterlo un pochino a pari ma evidentemente anche probabilmente un po' per struttura fisica è un giocatore che ci ci mette ci mette un po' di più diciamo che io la metto più sotto l'aspetto proprio psicologico la partita con il Napoli arriva secondo me nel momento meno ideale per per la Juventus il momento in cui da tabella di marcia mancano i due punti con l'Empoli e il Napoli abbiamo visto che invece all'opposto della Juventus ha preso forma sta prendendo forma sta prendendo fiducia partita dopo partito allora mister vai 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 se posso anche chiedere a Federico anche su questo tema Roma e Empoli essenzialmente erano due squadre con una linea 5 dietro 3 più 2 comunque come vogliamo chiamarla Napoli altra squadra che comunque promette di poter instillare anche quasi non lo stesso meccanismo di difesa comunque almeno la stessa composizione tattica questo non ti preoccupa invece per quanto riguarda la Juventus nel senso non credi che ci sia stato magari anche un po' di difficoltà proprio tattica della Juventus ad aggredire squadre con questa conformazione in campo sì può essere poi c'è anche da dire che io non ricordo una partita della Juventus giocata bene a Empoli se ce n'è una e per me quest'anno tanti faticheranno a Empoli penso che sia una bella squadra sì ma poi ma poi storicamente è un campo che la Juventus soffre anche quando sì forse c'è stato 3-0 però veramente è una su negli ultimi anni veramente io ricordo vittorie soffertissime sempre partite poco spettacolari lasciando stare la sconfitta di due anni fa ecco però è un campo già di per sé e quindi evidentemente anche un ambiente un tipo di squadra che al di là dei cambi di allenatore ma bene o male la filosofia di gioco dell'Empoli è sempre stata un po' sempre stata un po' quella è una squadra che non ti fa che non ti fa giocare bene che ti mette in difficoltà e che mina e che mina le tue certezze soprattutto torno al discorso di prima se sei tu a partire con un atteggiamento con una disposizione mentale più che un atteggiamento perché poi l'atteggiamento dell'allenatore è ovvio che fa il meglio che può però probabilmente evidentemente la sosta in generale tutto il tutto l'avvicinamento dei giocatori obiettivamente non mi sono sembrati pienamente pienamente sembrati riguarda la preparazione fisica tu hai detto giustamente probabilmente hanno sfruttato la pausa nazionale però ma se un giocatore questo lo dico da tecnici insomma se un giocatore non sta bene fisicamente e io sfrutto la pausa del nazionale per fargli dieci giorni di carico la partita successiva gioca male perché o gli faccio fare quattro giorni di allenamento e quattro di scarico ma allora non gli ho fatto un carico notevole affinché duri nel tempo allora se io dovuto fare un carico importante quella partita non ti gioca bene questo te lo posso garantire e dovrebbe averlo fatto quindi mister secondo te dovrebbe aver caricato un po' a costo di potrebbe aver caricato avrei fatto dieci allenamenti abbastanza duri e sono un po' imballati ma anche come si chiama Nico González non stoppava un pallone cioè non sembrava poi ecco nel finale nel secondo tempo ha fatto quella bella azione probabilmente avrebbe giocato meglio anche nel finale probabilmente ricordiamo che Nico è arrivato al contrario Nico è arrivato dall'Argentina dal Sud America a un paio di giorni dalla partita su tutti gli altri e quindi magari è anche stanco e l'opposto insomma ognuno aveva un motivo per non essere brillante ecco sì sì posso però che Cobainers abbia la sensazione era proprio quella di un carico di una specie di preparazione era come se un giocatore che gioca le prima amichevole a luglio ecco quella sensazione non mi sta dando mi sta dando quella cosa lì vai Virgi Virgi vai vai il tema libero no volevo chiedere a Federico visto che lo conosce da tanti anni ecco Cobainers se si aspettasse di vederlo più arretrato rispetto insomma a quello che ci aspettavamo noi cioè noi ci aspettavamo un giocatore che desse una gran mano a Vlaovic magari stesse anche più vicino invece nella partita contro l'Empoli l'abbiamo visto un pochino più basso ecco era una posizione in campo che ti aspettavi per Cobainers alla prima oppure ti aspetti un altro impiego no è la duttilità del giocatore che poi può essere per certi versi un po' anche una fregatura nel momento in cui chiaramente a seconda del tipo di partita magari il tuo compito può cambiare anche in maniera profonda anche in maniera anche in maniera radicale insomma al primo spezzone che ha giocato da sub entrato lo si è visto subito giocare praticamente attaccato alla punta sottopunta quindi personalmente credo che in quel tipo quel tipo di capacità lì possa essere è il discorso che facevo prima sul PSV lo trasliamo sulla Juventus un giocatore come Cobainers nella Juventus può essere un po' a maggior ragione stante anche un po' anche proprio per non lasciare troppo solo Vlaovic e non caricare troppo Vlaovic sul discorso del peso del peso offensivo con Miners è uno che la doppia cifra l'ha sempre avuta in canna se non l'ha realizzata è comunque uno che ha dato sempre l'impressione di poterla raggiungere quindi è un giocatore che secondo me impiegato in quel modo può può rendere può rendere può rendere tanto è altrettanto vero che essendo comunque un centrocampista di scuola olandese di base di base olandese ha poi nella duttilità nella flessibilità una grande una grande qualità però ecco occhio a non farla diventare poi la sua la sua condanna Federico ma quanto è stato costretto ad abbassarsi per prendere palla perché ha schermato io ho visto grande intasamento lì sulla tre quarti non c'era spazio non c'era possibilità di passaggio quindi lui magari ha cercato di prendersi palla un po' più basso può essere lì poi è anche la condotta di gara dell'Empoli che non ti ha fatto giocare ha pensato ha pensato a intasare a intasare gli spazi poi la Juve alla fine si riduceva a questi eterni giri palla che portavano a niente ma proprio perché non trovavano non trovavano alcun tipo di spazio e non c'era probabilmente e con Miners non era probabilmente non è ancora nella condizione di potersi proporre con quegli inserimenti che possono creare un po' l'effetto sorpresa che possono poi anche andare un po' a scompaginare gli equilibri probabilmente poteva essere anche magari una partita non dico giusta ma con un buon potenziale per con Miners mi è arrivata probabilmente nel momento sbagliato ma probabilmente la domanda è a monte ed è era il caso di schierarlo al primo minuto e dopo tanti abbiamo pensato che vederli entrare forse con squadre un po' più lunghe e un po' più stanco forse sarebbe stato meglio però sempre dopo come sempre che lo diciamo però c'è anche da dire che chi è entrato Max non è che abbia fatto così tanto la differenza per questo magari avrebbero potuto per questo vista dopo avrei detto fatti un'oretta un po' bloccata con quelli e poi l'ultima però ovviamente sono cose dette dopo che non valgono niente il mister lo sa bene ogni volta prende una decisione l'opposto io volevo scusa Dario ora ti do una parola chiedo una cosa al mister sulla situazione psicologica tattica tecnica di Vlaovic io ti dico una cosa mister l'ho visto anche di nuovo un po' solo talvolta non è solo l'errore che fa quello ok la freddezza così ma a volte io ero all'ottadio e l'ho visto un po' in una situazione tipo l'anno scorso anche se in un gioco diverso cioè a battagliare con uno due tre avversari in aria o nei nostri rinvi così e ti chiedo anche se il Diz così largo deve trovare lui lui aiuta tantissimo ma deve trovare il modo di incidere più davanti ma c'è tutto il tempo non è un processo lo chiedo come trovare la quadra sarà il compito di tattico di Tiago Motta perché anche a me sembra che il Diz renda meglio sotto punta ma a quel punto il Cup Miners dove lo metti nei due di centrocampo lo metti largo oppure devi cambiare comunque modulo perché comunque nell'Atalanta giocavano in due o con Del Catellero con Lukman sotto scamarca diciamo quindi deve cambiare per farlo rendere non lo so questo sarà è compito dall'allenatore che ha un occhio chiaramente mille volte meglio del nostro però anche a me ho avuto la sensazione che ad Empoli Blaovic abbia sia stato troppo isolato fermo restando che in queste quattro partite ha avuto almeno sette o otto palle palle gol insomma due pali l'occasione dell'altra volta anche contro mi sembra Roma la presa di Polpaccio la prima azione del primo tempo quindi potenzialmente è stato servito un po' di più rispetto magari all'anno scorso quindi io sono abbastanza fiducioso sai lui fa quel gol giocando alla stessa prestazione fa quel gol e vinciamo un a zero stiamo parlando di un grande Blaovic quindi l'attaccante si giudica per i gol volente o nolente quindi è chiaro che la deve quell'occasione che gli capita la deve cercare di sfruttare di più ci sta Dario volevi parlare prima scusami ti ho interrotto sì no era più caro sul precedente tempo volevo volevo la sensazione su Comminers perché trovate molto interessante per quanto riguarda anche i carichi di lavoro al mister prima li stava citando e la sensazione che ho avuto su Comminers è che più la partita andava avanti più in qualche modo oltre a prendere fiducia più mi è sembrato anche performare secondo me il secondo tempo di Comminers è un buon secondo tempo nel primo era un giocatore che perdeva proprio le linee nonostante dico la verità per spezzare una lancia in suo favore mi sembra di aver visto anche un giocatore che già richiamava i compagni insomma anche in grado di mostrare già una buona leadership in campo considerazioni diciamo nessuno te la sente di contraddire o c'era una domanda specifica no 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 volevo chiedere per l'appunto a voi se avevate avuto la stessa sensazione cioè che avesse già una certa leadership anche se erano in palla su questo il lavoro fisico no no ma la trasformazione di un lavoro fisico avviene giocando quindi più giochi sono d'accordo con Federico deve giocare anche se non lo sta benissimo deve giocare perché poi gli esercizi specifici tu li fai in partita quindi devi assolutamente trasformare il lavoro che hai fatto la forza che hai messo la resistenza che hai messo nel gioco e nella partita quindi deve migliorare col tempo così come anche Nico Gonzales sono convinto quindi concordo con te che l'ho visto meglio nella seconda parte piuttosto che nella prima allora secondo me mettere il Diz e Copp nuove soluzioni tattiche per Brandon Brundan 85 mettere il Diz e Copp dietro Vlauic un centrocampista in più per esempio Tioran Douglas Lewis e inserire anche un fagioli un albero un albero di Natale un albero di Natale esatto un albero di Natale soluzioni soluzioni che soluzioni che cercherai i buoni feedback Sandro anche da hai già parlato con qualcuno a Torino non lo so ti chiedo se hai già qualche feedback anche da là ho sentito ieri Giorgio Ghiellini mi ha invitato a Torino vedrò presto insomma poi magari vi dirò qualche cosa in più e beh e allora passiamoci un secondo perché mister dimmi se sbaglio potrei sbagliare tu qualche tempo fa ricordando sempre che continui a dirci che si vince in campo e non fuori ce l'hai detto 50 volte però non bisogna essere sciocchi ci hai detto probabilmente a questa Juventus può ancora mancare visto che il presidente e l'amministratore delegato sono nuovi nel calcio giunto ad occuparsi di tutta l'area sportiva e ovviamente calvo commerciale sappiamo che ognuno ha il suo ruolo ben definito ricordo male o mancava proprio quel ruolo per te cioè qualcuno tu hai detto se io voglio chiamare dico a caso i nomi io ora eh Malagò Ceferin quello la Lega Lega per come dire per dire sono la Juventus ma qua che succede è Giorgio Chiellini sei contento è così è il nome giusto è un ruolo che mancava o no? io sono convinto che il managgio mentre la Juve ha visto la tua trasmissione Juventus hanno visto Juventus perché l'hai detto proprio in effetti l'avevo detto in effetti l'avevo detto ed è perfetto per Giorgio è contentissimo perché starà a fianco di Scannanino per cui imparerà anche certi aspetti di amministratore delegato diciamo quindi conti bilanci sviluppo della società e al tempo stesso ha una ha un ruolo istituzionale che mi calza benissimo perché si sa porre sa parlare ha una bella presenza conosce il calcio conosce le dinamiche per cui è un ruolo che andava colmato e sono contento che l'abbia l'abbia preso Giorgio quindi presto lo vedrai chissà che ci racconterai poi ci farai una selezione delle cose che ti dice però sarà sarà interessante qual è qual è Sandro secondo te la prima cioè anche a me è stato specificato che me l'hanno detto chiaramente che non sarà una parte sportiva ma proprio manageriale vicino appunto a Scannavino secondo te qual è la qual è l'importanza ce la puoi spiegare bene cioè la Juventus credo sia comunque una società molto importante tu dici però comunque gli uomini in quei ruoli sono comunque uomini sempre i rapporti vanno tenuti sempre le relazioni le relazioni fanno una differenza la qualità delle persone fanno una differenza talvolta quindi sono convinto che lui insieme al presidente Ferrero che è anche ben visto in federazione come una persona appunto pacata una persona a modo sono convinto che possono fare un gran lavoro per riposizionarci in una in una situazione tale da non avere grossi danni insomma perché nel recente passato purtroppo abbiamo visto che molte situazioni non sono stato sono state sfortunatamente al nostro sfavore quindi bisogna avere un lavoro diplomatico alle spalle importante quindi credo che Giorgio Chiellini possa essere adatto Fede qualche considerazione sul ritorno di Giorgio Chiellini anche così come umore ti dice qualcosa mi piace anche la carica perché è una carica che non mi pare ci sia in altri club è un po' un ministro degli esteri che è una cosa perché è un po' Zanetti Zanetti sì però mi sembra un po' più questo è un po' più esplicito un po' più specifico più manageriale e secondo me è anche questa specifica dà anche un messaggio importante a tutti Juventus e non che non basta però essere stati dei grandi giocatori per essere automaticamente avere automaticamente la poltrona pronta ma che invece nel momento in cui c'è un percorso di studio un percorso di preparazione specifico e rigoroso poi a quel punto poi un ruolo e anche un ruolo magari anche più preciso più confacente al profilo e al percorso fatto si si trova ed è una situazione di reale beneficio per il club perché si trova una una persona un manager che è anche stato un giocatore e quindi che ha anche una visibilità un certo tipo di dispendibilità nell'ambiente come si diceva prima e anche con la tifoseria con tutto il percepito e tutto il percepito che ne guadagna però alla base c'è un percorso di studi reale che che ti porta a conquistare le cose sul campo la bandiera fine a se stessa nel calcio del 2024 mi sembra che sia che sia terminato no no la Juve l'ha sempre detto quando io ho provato a chiedere i vari nomi così la risposta è come dire da tifosi è giusto a noi serve il ruolo per cui uno lo riteniamo pronto non c'è come dire una ma la Juve è sempre così diciamo la gratitudine gli affetti sono ok belli importanti ma per lavorare in società loro ritengono Chiellini un aspirante manager veramente cioè questo almeno ho capito il percorso che ha fatto il percorso di studio è un percorso da manager è un percorso da manager con in più una conoscenza del calcio a livello internazionale di una carriera di vent'anni quello è un profilo io in questi mesi ho lavorato con il presidente nel marketing di una società americana ha fatto un'esperienza da poco è importante avere però che si diventi dirigenti per diritto divino per 500 presenti eh questo è il fatto la Juve non penso completamente spersonalizzato mi rendo vale io vedo in questo momento non regge più puoi andare a che è una cosa onorevolissima puoi andare a presenziare le inaugurazioni a a a a presenziare ai ai club è una cosa onorevolissima ma quando si tratta cioè i club sono aziende forse è una cosa che ci abbiamo messo tanto a capirlo in Italia più che più che altrove ma i club sono aziende e le aziende sono gestite da da manager già lo stesso allenatore ha delle richieste delle competenze molto diverse rispetto a quelle che poteva avere un trapattoni o anche solo un vitti Virgi che dicevi no che in questo momento vedo forte la contrapposizione del ruolo di Chiellini a quello che per ultimo sta coprendo Ibrahimovic nel Milan cioè mi sembra forte veramente in questo momento il confronto tra i due con uno che in questo momento è al centro delle polemiche ora il Milan è riuscito a vincere la partita dell'ultima giornata che ha giocato però insomma è al centro delle polemiche è stato sui giornali per diversi giorni Ibrahimovic in quanto assente alle partite del Milan quindi sono curiosa di vedere anche da questo punto di vista quale sarà la posizione di Chiellini perché Chiellini mi sembra uno che non viene a rappresentare se stesso ma a rappresentare la Juve ecco questa è l'impressione che mi dà vedendo non è pronto a Chiellini c'è anche da dire che poi Chiellini ha un ruolo molto Chiellini non è che va a fare il mercato va a fare un ruolo per il quale ha studiato poteva essere magari studiava non so poteva studiare marketing e finiva a fare magari sì sì è così ferma la Juve è proprio così è proprio un percorso dritto che il ruolo appunto la cosa di Ibrahimovic secondo me si commenta da sé ecco è un po' più scusa vedo Dario pronto sì no io dicevo che l'unico punto in comune forse tra i due è che sono essenzialmente due uomini della società perché anche Ibrahimovic se non sbaglio nel Milan è essenzialmente un advisor direttamente del fondo di capitale come ho letto che Chiellini comunque avrà un ruolo anche di rapporti con ECA stesso quello che mi chiedo poi è qua è come possa essere la traspettiva di Chiellini in Juventus nel senso la prima idea di comparazione che faccio è con Nedved Nedved nel 2010 all'interno del consiglio d'amministrazione magari non fa propriamente un corso sonoro manageriale però poi in qualche modo diventa vicepresidente per me per me Chiellini va a sostituire quella figura lì che penso in questi anni sia mancata Sandro è così c'è un nesso al di là delle persone che sono diverse Chiellini e Nedved c'è un nesso secondo te più manageriale espressamente più manageriale quello di No no non credo perché Nedved era un po' più dentro la squadra diciamo più dentro i rapporti cioè tra Andrea Agnelli e la squadra quindi era un po' il consulente di Andrea Agnelli io credo che lui voglia fare una carriera all'interno della società cioè il senso di far crescere la società in termini di business in termini di di adesso non so il termine esatto sì sì va bene eh l'avete capito insomma quindi potrebbe diventare un amministratore delegato ecco sì alla lunga quello può essere lo sbaglio potrebbe diventare dopo anni e anni e anni e di gavetta e di appunto apprendimento potrebbe a fare quel tipo di carriera e credo che ripeto per come lo conosco per quelle volte che ci ho parlato per la qualità umana che c'ha tutte le carte regole per poter crescere poi è come sempre il campo perché la Juventus giustamente non regala niente a nessuno se è bravo andrà avanti e farà carriera come si fa in ogni carriera in ogni azienda quindi oppure un giorno PSN andrà e andrà in un'altra azienda di calcio o no con un curriculum importante mister una domanda lascia stare la Juventus sta prendendo un nuovo lavoro si è così si torna sul campo il tema è libero si torna sul campo anche poi Dario ti do la parola se hai qualcosa da dire chiediamo al mister Campania è già una Juve da Scudetto ora bisogna provarci tutte queste frasi sono giuste tu mister dentro di te diciamo anche da tifoso ora la senti dici quest'anno si può giocare per il titolo o dici ancora secondo te ci manca qualcosa e speriamo di essere sorpreso ma da tifoso di sì vorrei vedere vorrei insomma che la squadra lottasse fino all'ultimo per lo Scudetto chiaramente da tecnico ti dico che la rivoluzione è stata molto importante ci sono tanti giovani bisogna avere pazienza anche se nella Juventus non la puoi avere quindi se noi facciamo un gran bel campionato e poi puntelliamo una squadra per essere molto competitivi ancora di più l'anno prossimo io già sono molto contento ma lo dico da tecnico ma però tu sai benissimo che da tecnico anche se c'è una squadra di ragazzini voglio vincere tutte le partite ah no certo certo l'obiettivo deve essere quello vincere tutte le partite ci incavoliamo diciamo però oggettivamente ripeto se in questo momento Tiago Motta continua con questo modulo e a sinistra se ne giocano o Ildiz o Bangula sono un 2005 un 2004 e quindi dobbiamo tenerne conto anche di questo che ci saranno momenti che dobbiamo permettere anche l'errore per poter crescere quindi parliamo anche delle altre un attimo Federico e Minister parto da te visto che stiamo parlando di un tema anche Federico allora intorno c'è l'Inter che tuttora che mostra l'unico lato secondo me l'Inter lo sappiamo è più forte è più solida l'unico lato che lascia qualche speranza è il fatto che sembra davvero molto settata sulla Champions di quest'anno ieri ha fatto un grande turnover l'anno scorso forse avrebbe fatto quasi l'opposto all'inizio avrebbe fatto tutto per il campionato non so non seguo così da vicino l'Inter però mi sembra questo potrebbe essere un tema che ti fa perdere qualche punto l'Inter punta ad arrivare secondo me tra le prime otto per esempio ha un calendario che lo rende possibile e prova ad arrivare tra le prime otto però mi sembra nettamente la più solida poi c'è questo Napoli di Conte caro mister so quanto lo stimi non so cosa ne pensi e poi c'è Juve e poi va bene le altre Roma, Atalanta non so mister chiedo a te una piccola non so se griglia ma mi dici qualche tua impressione generale sulle nostre competitor ma l'Inter è nettamente la più forte perché la squadra dell'anno scorso ha inserito altri due o tre cambi di notevoli che giocherebbero titolare a qualsiasi altra squadra il Napoli è forte due anni fa l'anno scorso ha avuto tutti i problemi che sappiamo adesso Antonio sicuramente gli darà quella ferocia che è tipica delle sue squadre noi dobbiamo continuare l'Atalanta secondo me è molto forte e il Milan che è sempre una squadra queste secondo me sono le cinque squadre più forti del campionato noi dobbiamo dobbiamo essere lo dico anche ai tifosi dobbiamo essere entusiasti dobbiamo veramente aiutarli dobbiamo è vero che loro devono anche accendere il pubblico ma anche noi dobbiamo aiutare i ragazzi allo stadio perché c'è bisogno di entusiasmo perché voglio vedere un po' più di ferocia ho visto un po' troppo controllo dobbiamo avere proprio la voglia di di aggressione dobbiamo trascinare un po' il pubblico quindi mi aspetto questo dalla squadra Federico se lo dici anche tu che succede intorno anche a noi sentite si ti vediamo frizzato però ti sentite mi sentite ok e no sul discorso Inter sono allineato con col mister mi sembra ho la sensazione però che ci sia quest'anno molta pressione scaricata su Inzaghi del tipo il messaggio mi sembra che sia la squadra ce l'hai hai una squadra già fatta e la squadra dell'anno scorso è stata rinforzata secondo me bene con un praticamente un giocatore per reparto e sono arrivati tranne Palassio sono arrivati tutti anche con ampio anticipo quindi anche il discorso qui della condizione della preparazione dell'inserimento non ha avuto scuse mi sembra che tutta la pressione se vince è merito della squadra se perde se le cose non vanno bene sarà colpa di Inzaghi mi sbaglierò ma mi sembra un po' questa la sensazione e probabilmente questo un po' un pochino incide io sono curiosissimo di vedere il derby perché perché qua il piano psicologico delle due squadre cambia può cambiare da una partita con l'altra cambia da una partita con l'altra già il Milan che secondo me è ben lugido all'aver risolto i suoi problemi però chiaramente ha già un ha già un altro respiro dopo la partita col Venezia però contro il Liverpool non è che giochi in una partita facile no? e poi soprattutto c'è anche questo peso della serie di sconfitte di una striscia di sconfitte infinita nei derby che qua da Milano vi posso assicurare che pesa tantissimo che è sentita tantissimo e che più e che più aumenta più crea pressione in chi la subisce no? è una cosa una cosa paradossale ma è così quindi è un Milan che diciamo che sta vivendo questa settimana per autoalimentarsi la fiducia cioè vincere col Venezia ok adesso fare una grande partita con il Liverpool autoalimentarsi per arrivare per riuscire ad arrivare al pieno della carica contro 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 l'Inter e per lasciarsi alle spalle un agosto terrificante detto questo a me il Milan non dispiace come squadra di per sé mi sembra costruita abbastanza mi sembra costruita con bene c'è anche una certa varietà nei giocatori non mi sembra male e diciamo che ecco su Napoli e Atalanta le vorrei vedere con un po' più di continuità con un po' più di chilometri nel motore perché l'Atalanta non mi aspettavo i passi falsi di agosto al di là del mercato pesante e e Napoli beh Napoli abbiamo abbiamo domenica abbiamo nel fine settimana insomma la partita una partita della verità vedo che un po' tutti tengono fuori la Roma e la tengo fuori anch'io perché ho la sensazione che ecco qui il mercato sia stato un mercato che pur con tutti questi movimenti ha cambiato tutto ma secondo me alla fine è cambiato se non nulla ben poco ho già avuto anche la tegola di Salemakers se non sbaglio due mesi fermo e stia fermo due mesi arrivo a te a Di Marco un affattamento muscolare sarà fuori col City e forse col Milan io direi così facciamo un ultimo giro poi voglio capire per salutarli gli appuntamenti futuri di Sandro Campagna che ci racconta un po' anche il Settebello e tutto il resto e da Federico Casotti c'è per tutti quelli che chiedono ma che fa Casotti voglio sapere c'è una nuova iniziativa molto bella che ci racconta tra pochissimo quindi stiamo per liberarli Virginia, Dario se abbiamo considerazione o domande finali e poi vai Virginia Sì allora due domande una sul Napoli perché appunto è vero ora Tiago Motta ci ha ricordato come si debba pensare partita dopo partita però insomma un Napoli che durante questa prima settimana di Coppe Europee rimarrà fermo e arriverà direi molto riposato alla partita contro la Juve che è una Juve che affronta la Champions League con tanti esordienti è stato un tema durante la conferenza stampa chiedo quanto questa cosa debba preoccupare il tifoso juventino nel senso guardando anche lo storico di Conte questo è un fattore che può portarci a prevedere una partita di sofferenza ecco con il Napoli questo lo chiediamo a te giochiamo martedì e la partita è domenica con il Napoli martedì 18.45 sabato no sabato martedì 18.45 sabato alle 18 ci sono quattro giorni abbondanti per recuperare restando a Torino peraltro anche quello conta i viaggi le cose no 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 gli piacevano gli spottò che si dicevano prima i tifosi quando tu giocavi in Champions ve la vedete dal divano insomma guardate quindi certo ecco è un vantaggio per noi ma soprattutto per i giovani tu fai otto partite di Champions di quella di quella intensità di quella bellezza di quella contro squadra molto forti tutti i nostri abbiamo una squadra giovanissima levaci adesso due tre ma gli altri sono tutti sotto il duemila la maggior parte quindi fare queste partite serve crescere quindi io sono contento io l'allenatore sono più contento che giochiamo la Champions e poi sabato domenica vedremo ci sta ci sta Dario tu che hai per salutarli oppure per fare un'ultima osservazione no volevo fare una domanda un po' scomoda tanto per salutarli in maniera carina vai vai ci piace il finale shock volevo chiedere sia al mister sia Alessandro abbiamo parlato dell'Inter Napoli insomma di tante squadre forti le prime posizioni quale secondo loro potrebbe finire fuori dalla corsa Champions da un qualificazione alla massa pensavo chiedessi di insultare qualche collega così facilissimo chi è che rischio ricordiamo i nomi dai ridiciamoli Juve 4 e 5 vanno 4 quasi sicuramente 4 allora Juve Napoli Milan Inter Roma Atalanta Lazio direi che Bologna non c'è io penso che l'Atalanta va dentro quindi una di queste 4 forti tra Inter Milan Juventus e Napoli non andrà ti dico solo questo una di queste 4 esce sì ecco speriamo no speriamo che allora Federico rispondi anche tu secondo me rischio il Milan e sono curioso però sono curioso di vedere Napoli sulla lunga distanza sì